buonasera a tutti benvenuti al webinar della urmet dedicato alla telefonia ip innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di urmet e a nome mio per la disponibilità e il tempo che ci state dedicando io mi presento sono grotto diego e faccio parte del supporto tecnico commerciale prima di incominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con freccia arancione in alto a destra nella sezione domande e inviare delle richieste di informazione allo staff che risponderà quanto prima e nella parte di documentazione potrà scaricare le slide della presentazione odierna per chi utilizza dispositivi mobili troverà la sezione delle domande in alto sulla destra sempre selezionando l'icona punto interrogativo sempre in alto si trova anche l'icona libro dove si potrà scaricare la documentazione quindi le slide odierne durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi quali siete invitati a rispondere cliccando appunto sull'opzione corretta e pigiare il tasto invia oggi come abbiamo detto parliamo appunto di ipertolche la telefonia voip e anche lo smart working direi subito di partire con un breve sondaggio per andare a livello conoscitivo per andarvi a chiedere alcune informazioni e andiamo a chiedervi installate impianti di telefonia ip avete chiaramente due soluzioni sì oppure no votate pure speriamo che ci siano sia dei sì che dei no vedo già che ci sono un 80 per cento di sì si è abbassata attendiamo ancora qualche istante attendiamo ancora qualche istante e andiamo a chiudere il sondaggio e andiamo a vedere il risultato il risultato è 60 per cento sì quindi avremo ben modo di ampliare tutta la parte di documentazione interessante su la telefonia ip e mentre un 33 per cento no non l'ha mai installata e quindi andremo magari ad approfondire anche con loro la base di partenza del sistema ipertolche bene a questo punto vi presento il product manager che svolgerà il corso l'ingegner andrea si che si occupa appunto della telefonia del gruppo urmet ciao daniele buonasera a tutti mi chiamo daniele andrasi sono product manager della linea telefonia di urmet e sono qui stasera per presentarvi la novità in ambito telefonico il sistema i voi ipertol di urmet facciamo da primo una premessa relativamente al mercato la tecnologia ha trasformato la modalità di comunicazione aziendale e di conseguenza di pari passo sono evolute le esigenze dei clienti chiedendo nuovi strumenti e nuovi metodi comunicati l'obiettivo di ipertol che è quello di dare sempre maggiori soluzioni ai bisogni dei clienti questo lo fa con principalmente affrontando sei principali direzioni la multimedialità ovvero la capacità di gestire differenti tecnologie con un unico sistema la comunicazione unificata ovvero la possibilità di unire le diverse forme di comunicazione per utenti sempre connessi la personalizzazione ovvero la personalità la possibilità di personalizzare i servizi telefonici sia a livello di singolo interno ogni singolo utente che a livello di sistema per esempio l'amministratore interconnessione senza distanze ovvero la possibilità di collegare tra loro terminali e serie di remoti sfruttando la banda larga e quindi la connettività di internet l'integrazione tramite un'unica interfaccia sia se il telefono o l'interfaccia web my talk per unire far interagire tra loro diverse tecnologie infine la sicurezza unire alla gestione della comunicazione anche quella della sicurezza vediamo ora chi proporre il sistema telefonico ipertorico ipertorico è un sistema di nuova generazione progettato per soddisfare molteplici esigenze di impiego e grazie alla sua flessibilità nel connettere comunicare integrare è in grado di fornire una varietà di servizi telefonici sia in ambito civile sia in ambito residenziale che industriale risulta pertanto la soluzione ideale per studi professionali attività commerciali supermercati centri commerciali farmacie dentiste studi medici cliniche private industria pubblica amministrazione e strutture ricettive ma anche perché no strutture residenziali importanti come per esempio delle ville le principali caratteristiche di ipertorque diciamo su cui vuota tutta la struttura e tutte le potenzialità e le funzionalità di ipertorque si basano sul fatto che è un sistema aperto o quindi interfacciabile anche a dispositivi di terze parti grazie ad ip e in particolare al supporto dello standard telefonico ship è un'elevata modularità e flessibilità risulta infatti espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità ipertorque prevede infatti diversi moduli hardware e software per adattarsi alle specifiche esigenze di soluzioni o di clienti nel particolare a livello di interni se vediamo anche la l'immagine rappresentata nella slide si vede bene come nella parte superiore siano presenti la parte di terminali ip quindi terminali audio terminali video sia telefonici che citofonici terminali analogici gestiti attraverso un'interfaccia che converte il terminale analogico da analogico in ip terminale analogici tradizionali telefoni cordless fax posti stanni citotelefonici ok e poi nella parte più in basso vediamo quello che è l'interfacciamento le linee se si parla di linee tradizionali si utilizzano gateway voip appunto in grado di convertire da analogico gli sdn gsm verso il protocollo voip e quindi di farlo gestire al sistema ipertorque nel caso invece di linee provider di linee voip pure possiamo sfruttare direttamente la connettività di internet quindi senza nessuna necessità di apparati di mezzo per l'interfacciamento da notare come lo switch sia lo switch la parte il fulcro centrale dell'impianto telefonico ip e quindi il punto dove si collegano dove afferiscono tramite cui dialogano proprio fisicamente i vari apparati del sistema di telefonia passiamo alle funzioni telefoniche sistema ipertorque diciamo daniele scusami eccomi qua scusami daniele volevo interrompiti un attimo che così volevo fare un ulteriore sondaggio di approfondimento argomentazione partiamo col sondaggio andiamo a chiedervi ipertorque può gestire linee urbane analogiche e telefoni esistenti analogici che voglio recuperare dall'impianto esistente abbiamo due possibilità di risposta una è sì e una è no praticamente a livello oggettivo ho un impianto esistente voglio recuperare l'esistente magari integrare un qualcosa di ip ma il cliente finale vuole tenere magari le linee che ha già l'abbonamento le linee analogiche e magari anche qualche telefono esistente potete rispondere tranquillamente andiamo a chiudere il sondaggio abbiamo visto che hanno risposto tutti condividiamo risultato è sì benissimo il risultato è corretto grazie e ripasso la parola a daniele grazie grazie diego molto interessante l'esito molto preparati passiamo quindi alle funzionalità telefoniche dicevo il sistema per torc nasce da quello che è un sistema telefonico tradizionale a livello di funzionalità per poi farlo evolvere grazie di p e il voip e a l'informatica più in generale le funzionalità telefoniche supportate per torc sono le classiche quelle presenti anche nei sistemi tradizionali come per esempio la guarà e sono ovviamente tutte comprese e previste di default nella piattaforma di sistema in sé passiamo invece a vedere adesso quelli che sono i servizi vorrò l'evoluzione integrazioni delle funzioni telefoniche viste prima fatte evolvere per realizzare servizi a valore aggiunto fatti evolvere grazie appunto all'ip e al software la natura software del sistema per torc servizi compresi nel sistema disponitore automatico evoluto interattivo e multilivello multilivello vuol dire che posso presentare delle scelte e poi di conseguenza a una scelta presentare altre scelte di conseguenza una ulteriore scelta altre scelte ancora e così via senza un limite fisico diciamo da parte del sistema all'interno prevede sotto funzioni o funzionalità specifiche come il diesel affondente rompibile i servizi multiazienda il giorno la gestione automatica del giorno notte rilevamento automatico dei fax inoltre automatico delle chiamate su più destinazioni funzionalità ormai consuete e diciamo molto richieste da qualsiasi cliente segretaria telefonica con recapito messaggio del messaggio come legato email o su web attraverso l'interfaccia my talk una rubrica centralizzata condivise personale quindi sia di azienda sia personale per ciascun utente consultabile sia dal telefono nel caso di telefoni ip e automaticamente distribuita dal sistema se tutti i telefoni sia consultabile dell'interfaccia web e utilizzabile in modalità click dial le portistica sulle chiamate ed effettuate ricevute e perse sia del sistema che per ciascun utente presente in interfaccia web di utente my talk sia valida sia per l'amministratore quindi per tutti le chiamate del sistema oppure per ciascun utente che può andare a consultare e eventualmente richiamare sempre con la funzionalità click to dial quindi la concetto cti di interoperabilità tra computer e telefonia con il per talk è molto spinto è molto sfruttato è molto utilizzato monitor intemporale dello stato del sistema delle risorse in uso e riepilogo dagli armi del sistema è possibile monitorare vedere in tempo reale lo stato dell'interno se occupati se in ring in se in conversazione se liberi se in don't disturb in modo da potere eventualmente andare a gestire diverse destinazioni di trasferta o evitare di trasferire una chiamata quando si sa che l'utente non è presente nella sua postazione o è occupato in un'altra conversazione i vpn client vpn server sia per raggiungere il sistema da remoto e quindi fare attività di telesupporto o di manutenzione del sistema o tramite vpn server permette di remotizzare attraverso in modo sicuro con vpn già prevista a livello del sistema sia singoli interni remoti che altre sedi remoti dove sono installati altri sistemi per talk e poi il portale web il portale web my talk che permette appunto di gestire sia gli interni che sia a livello di interni di singoli utenti sia livello di amministratore per tutto il sistema per personalizzare per andare adattare a diverse esigenze che possono variare nel tempo il tutto con differenti profili di autenticazione e di accesso a questo portale quindi differenziare anche le possibili funzioni che il sistema può a cui può il sistema dare accesso altri servizi diciamo attivabili su licenza sono il supporto le videochiamate sia telefoniche che citofoniche che anche verso telecamere così come se fosse proprio un interno telefonico o videotelefonico la gestione della citofonia si tradizionale che voip con inoltre anche su app colmi già nota per applicazioni verticali direttamente della citofonia urmet la registrazione delle conversazioni sia su richiesta che incondizionata quindi per la programmata filtrata per esempio per entranti per uscenti per interno per singole linee l'applicativo fax to mail ovvero la possibilità di ricevere il fax come legato email o di inviarlo da interfaccia web my talk con pochi clic analogamente al fax anche l'sms sia singolo che a livello balco quindi a livello massivo è possibile inviarlo da interfaccia web my talk sia direttamente se nell'impianto diciamo presente un gateway gsm oppure facendo abbonamenti con provider web che gestiscono questo tipo di servizi linee voip private per collegamento tra sistemi per talk in sedi remote la possibilità quindi di chiamare tra interni di diverse sedi a costo zero sfruttando la connessione internet il tutto però reso privato e assolutamente vindato a livello privacy grazie alla vpn di sistema di cui abbiamo parlato nelle precedenti nella precedente slide le funzioni hotel le basiche previste come costo chiamata sveglia stato stanza oppure per un'integrazione più completa più totale verso il gestionale alberghiero il pms tramite il protocollo fias infine il modulo call center che permette di gestire chiamate ad operatori diciamo in stile call center tramite code di attesa passiamo adesso in rassegno a una serie di soluzioni che è possibile offrire alla propria clientela soluzioni ottenute come componendo i vari servizi quelli visti nelle precedenti slide e le funzionalità scusate telefoniche al fine realizzare insieme di soluzioni andiamo ora più nel dettaglio a passare la rassegna di quelle più comuni più sfruttate la prima è la soluzione per il tele lavoro e il multisede in questa slide vedete c'è un'immagine dove è possibile vedere che per esempio posso avere il mio interno aziendale direttamente a casa come se fosse in ufficio oppure devi allo sul cellulare oppure chiamare interni di altre sedi aziendali senza costi in tutta sicurezza quello accennato anche nelle slide precedenti quindi da questa sede per esempio posso sfruttando la connettività di internet quindi a costo zero senza linee con numerazioni diciamo pubbliche andare a chiamare il mio collega su una sede remota oppure videoconferenze con i colleghi delle sedi rimote quindi triangolare per esempio le tre sedi e fare una videochiamata direttamente con l'interno aziendale col telefono che si ha sulla scrivania senza bisogno di tool particolari oppure videocitofonia centralizzata unificata vediamo qui ci sono dei posti esterni sulle sedi principali per esempio posso fare in modo di gestire solo con il tele lavoratore o con un sistema centralizzato con una sede centralizzata per esempio in orale notturno le chiamate alle sedi non presidiate quindi attraverso la connettività la chiamata arriva sul operatore remoto oppure la citofonia unificata per esempio posso gestire sia diciamo il citofono il posto esterno tradizionale analogico 4 pn della sede remota direttamente da una sede centrale da un operatore centralizzato così pure il posto esterno voi psip ok di ultima generazione presente nella sede principale oppure accogliere le chiamate di tutte le sedi da uno stesso risponditore automatico magari multilingua perché per esempio ho sedi anche all'estero e quindi il risponditore automatico posizionato sulla sede principale dove vengono convogliate le chiamate in arrivo sulle linee delle sedi periferiche che va ad accogliere in modo unico univoco diciamo i clienti della mia azienda oppure sempre nel caso di appunto sedi internazionali potrebbe la necessità di chiamare un numero internazionale e senza effettuare una chiamata internazionale ad esempio dall'italia posso sfruttare tramite la connettività internet le linee installate presso la sede remota e quindi effettuare di fatto una chiamata urbana verso numeri esteri andiamo a vedere più nel particolare quelli che sono le funzioni le 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 funzioni utili per realizzare questo tipo di soluzioni quindi risponditore automatico il portale web segretaria telefonica linee uop linee voi private in stradamento uscente intelligente delle chiamate e vpn client vpn server per mettere in sicurezza i collegamenti intersevi e questi appunto alcune idee alcune sottosoluzioni che sono state gestite sono state proposte già ai clienti questa sign invece vediamo quello che passa un tipico schema di impianto per risolvere questo tipo di di soluzione per assolvere a questa necessità quindi vediamo per esempio le tre sedi con la sede principale con le linee l'unica da delle linee per esempio e le altre in quella del tele lavoratore o della sede secondaria o del magazzino periferico che per telefonare dovranno utilizzare per esempio le linee pstn della sede principale un mix di terminali ip o di tradizionali terni analogici o posti esterni analogici cito telefonici in questo caso telecamere ip o posti esterni ip il tutto può essere gestito da per esempio dal video terminale della sede principale nel caso di assenza nelle sedi periferiche passiamo alla soluzione successiva ovvero quella più dedicata al controllo accessi più focalizzata sul controllo accessi anche in questa slide è possibile vedere ad esempio che la possibilità di rispondere dello stesso terminale sia la chiamata citofonica che quelle telefoniche quindi a fronte di una chiamata citofonica l'operatore di sede può rispondere sia a quelle telefoniche che quelle citofoniche oppure rispondere dal alle chiamate citofoniche sia dal telefono della postazione fissa che da un monitor per esempio il monitor max che da un app da cellulare o su pc o con un messaggio automatico per esempio a fronte di una chiamata a fronte varco dove non esiste una pulsantiere per esempio per i locali del riscaldamento che ne so di un edificio comune il tecnico arriva in loco tramite la chiamata cellulare chiama un numero di servizio dove risponde un varco un risponditore automatico magari alla pressione di un tasto è possibile avere il varco di quella determinata sede di quel determinato servizio di sede altre altre funzioni sono riguardando per esempio la possibilità di monitorare l'area dell'accesso tramite una telecamera oppure di interagire con l'utente mediante uno speaker uno speaker IP o una fila di fusione tradizionale sempre dall'operatore locale o remoto oppure appunto la possibilità nel caso in cui non ci sia un presidio locale in ore notturni in caso di festività sfruttare o un collaboratore in movimento con un numero mobile o un'applicazione sul cellulare o tramite una centrale operativa remota con un operatore in studio call center dedicato a gestire le chiamate di servizio durante gli orari di non presidio. In questa slide andiamo a vedere i singoli tasselli a livello di funzioni che possiamo sfruttare per realizzare questo tipo di applicativi e anche qui alcune delle idee che grazie all'esperienza fatta sul campo ci sono rimaste per realizzare soluzioni di questo tipo. Per esempio una che non si è citata la possibilità di gestire più archi da una sola postazione magari anche chiamate contemporanee mantenendo in attesa le chiamate tramite un risponditore che dà anche una musica d'attesa in modo da far capire all'utente che a breve riceverà le risposte di qualcuno. Oppure la possibilità di avere un varco digitando un codice personalizzato su un tastierino o chiamandone uno specifico numero mobile come nell'esempio citato prima. In questa slide vediamo uno schema di impianto tipico, anzi abbastanza articolato, dove abbiamo preferito elencare tutte le varie forme di interazione a livello di controllo accessi, quindi a sinistra vediamo tutta la parte lato utente, lato risponditore, quindi il monitor, il videotelefono o anche un telefono audio e sulla parte destra dello schema vediamo invece quello che è la gestione del post esterno, il post esterno IP video direttamente collegato alla rete della struttura oppure un digitale 2 voice tramite un'interfaccia dedicata che lo converte in analogico, quindi solo audio, oppure tramite il tradizionale 4pn, 4pn tramite un'interfaccia di conversione che lo trasforma in un interno analogico e grazie all'interfaccia poi viene ulteriormente trasformato in IP e quindi è permesso la gestione tramite terminali telefonici. Oppure la telecamera telecamera che posso integrare a il post esterno tradizionale audio e ottenere il mix del flusso audio e del flusso video per generare verso apparati video una videochiamata, quindi facendo evolvere anche un impianto che era tradizionalmente audio facendo un'ordinità di IP, quando per esempio ho un impianto di colonna che non posso modificare perché un negozio, un'attività commerciale al primo piano di un palazzo, io desidero per maggiore sicurezza, un maggiore controllo avere anche la parte video, gli altri condomini non lo vogliono fare, per me è sufficiente integrare una telecamera mia privata che nel momento in cui chiamano il mio sistema, chiamano il mio appartamento, riesco a avere sia la parte audio che la parte video. Scusa Daniele se intervengo, volevo solo fare un altro sondaggio di apprendimento, andiamo al terzo sondaggio, andiamo ad avviarlo e andiamo a chiedervi, col sistema Ipertoic posso integrare la citofonia? Abbiamo tre soluzioni, sì solo citofonia tradizionale audio, sì sia video citofonia tradizionale audio che video citofonia IP oppure no? Votate pure, diamo ancora qualche istante per la votazione, bene hanno votato quasi tutti, chiudiamo e andiamo a vedere il risultato. Abbiamo il 100% sì citofonia tradizionale audio che video citofonia IP, benissimo, la risposta è chiaramente corretta, poi se vuoi aggiungere qualcos'altro Daniele, grazie. Molto bene, molto bene, sono molto soddisfatto già così della risposta e dell'attenzione soprattutto. Passiamo alla soluzione successiva, quella più votata, più orientata alla sicurezza, in questa immagine risulta abbastanza evidente grazie alla presenza di tutte queste telecamere e registrazioni. Vediamo nel dettaglio, per esempio la possibilità di vedere nello stesso terminale sia alla telecamera dell'impianto TVCC, quindi queste telecamere che vedete qui, che del posto esterno, nel caso in cui si è un posto esterno video, ma rispondere anche alle chiamate telefoniche, ok? Oppure aggiungere il video all'impianto citofonico tradizionale come citato prima, in questo caso vediamo un impianto, un solo audio, a cui ho aggiunto anche la parte video, sfruttando magari una telecamera preesistente, quella appunto del sistema TVCC. Oppure monitorare l'ingresso dal videotelefono tramite la telecamera del posto esterno, quindi l'operatore che può verificare la presenza di qualcuno in fronte nell'intorno dell'ingresso, sia tramite la telecamera del TVCC, del sistema di circuito chiuso, oppure sfruttando direttamente la telecamera del posto esterno, con una sorta di inclusione. Oppure altre soluzioni riguardanti la sicurezza possono essere per esempio la registrazione delle chiamate del servizio clienti o delle pronotazioni ordini utili per non dimenticare qualcosa nell'elenco che fa il cliente o anche per sorvegliare diciamo quello che è può essere detto in una fase di supporto al cliente, sia per proteggere il cliente, sia per proteggere il proprio dipendente, il proprio collaboratore. Oppure chiamare con il massimo della privacy tra le sedi o va a essere un terminale remoto sfruttando la rete internet, quindi una rete pubblica, però grazie alle VPN presenti sui sistemi per talk sono in grado di creare un circuito sicuro tra una sede e la successiva a fare una chiamata con garanzia assoluta della privacy e di sicurezza. Oppure gestire barchi di servizi in una struttura distribuita tramite un operatore centralizzato che mi abilita l'accesso per esempio a fronte di un utente che si presenta davanti a una struttura, la possibilità tramite un tastino numerico o tramite video verifica da parte di un operatore remoto la possibilità di permettere l'accesso a una struttura di proprietà. Oppure l'accesso remoto dall'interfaccia WebMyTalk senza necessità di una VPN aziendale o di intervenire sul router con regole di NAT, di inoltre report eccetera. Accedere all'interfaccia WebMyTalk può dire cambiare il profilo, attivare aperture straordinarie del sistema o andare a modificare una configurazione a causa di una necessità di variare il comportamento del sistema a causa di nuove esigenze per esempio che via via possono variare nel tempo. In questa slide vediamo appunto le funzioni che possono essere utili a comporre questo tipo di soluzioni quindi videochiamate, MyTalk, citofonia tradizionale VoIP, linee private, registrazione e conversazioni e VPN client server. Le soluzioni appunto sono quelle citate commentando l'immagine in precedenza e nella slide successiva vediamo quelli che sono invece, quello che può essere invece un classico schema impianto per la realizzazione di soluzioni di sicurezza. Quindi sulla parte sinistra diciamo la parte tradizionale di impianto telefonico con linee analogiche o linee IP VoIP di un provider e poi sulla parte destra vediamo tutto quello che può essere l'add-on specifico per andare a gestire in sicurezza diciamo parti delle risorse aziendali con la sicurezza necessaria garantendo appunto l'inculumità dei dipendenti o la sicurezza nelle varie fasi di lavoro. Passiamo adesso a una soluzione, alle soluzioni dedicate alla reperibilità quindi alla mobilità dei propri dipendenti e alla possibilità comunque di essere intracciati attraverso i numeri aziendali attraverso quelle che sono i classici canali aziendali utilizzati. Possiamo vedere qui per esempio la possibilità di inoltrare le chiamate, di accogliere le chiamate tramite inoltrandole ciclicamente su una serie di numeri mobili. Per esempio le chiamate al supporto clienti, offrono un supporto H24 ai clienti o dei tecnici sul territorio che si spostano, posso dire al sistema interroga i tre numeri ciclicamente finché uno di questi reperibili non ti risponde. Oppure semplicemente devi avviarmi le chiamate sul cellulare, pensiamo al professionista che si sposta dalla sede ma ha la gesta di essere comunque raggiunto sul numero mobile. Con un semplice tasto sul telefono devi tutte le chiamate in ingresso sul proprio numero mobile. Chiamate o banalmente anche i messaggi di segretaria telefonica tramite email come allegato audio oppure anche gli stessi fax come allegato pdf tramite sempre la mail. Quindi con un terminale connesso la possibilità ricevere dalle chiamate audio a diciamo la trasmissione via email di messaggi fax o messaggi audio. Ma anche la possibilità quindi di rispondere al citofono, il citofono al posto esterno, una chiamata citofonica dall'ufficio sempre sul numero mobile o sul numero vero e proprio mobile o su un'applicazione citofonica come l'app col me direttamente sul cellulare che darà la possibilità anche di vedere l'immagine nel caso in cui io usufruisca di un posto esterno di tipo video. La possibilità che vorrei evidenziare è quella di dare al cliente sia una prima soluzione quindi la prima chiamata ti arriva sulla app bella con l'audio e il video e quindi la possibilità di avere il cento per cento della funzionalità a disposizione ma nel caso di scarsa banda di scarsa copertura internet avere un backup una seconda possibilità di ricevere con maggiore sicurezza o con maggior probabilità o con assoluta probabilità la chiamata sul numero di cellulare ovviamente in modalità solo audio. Anche questo tipo di soluzioni sono composte con dei mattoncini dei servizi più o meno quelli visti anche prima quindi il risponditore automatico portale MyTalk, server fax, segretaria telefonica e video cittofonia tradizionale VoIP. Con queste funzioni componendole assieme vado a realizzare quelle che sono le funzioni citate prima e che vediamo in elenco ora in questa slide. Anche qui il relativo schema impianto può essere esemplificato in questo schema che vediamo in questa slide dove c'è sempre comunque la gestione di parte telefonica tradizionale con fax e post esterno citto telefonico per esempio e una diciamo più ampia possibilità in questo caso di linee per raggiungere diciamo la comunicazione per fare la comunicazione per raggiungere l'esterno. Cito qui anche la funzionalità di failover di trabocco che è possibile configurare sul sistema HyperTalk ragion per cui per esempio posso decidere di gestire da prima la chiamata tramite le linee VoIP di un provider nel caso di raggiungibilità posso passare o di piena occupazione delle linee passare a quelle PSTN nel caso neanche queste siano usufruibili avranno un terzo livello con linee tipo GSM che posso andare direttamente a invocare tramite un gateway con un sim a bordo. passiamo alla soluzione successiva le soluzioni per le strutture ricettive quali hotel e bed and breakfast nella slide vediamo quello che può essere una rappresentazione di una struttura ricettiva e proviamo a suggerire alcune delle soluzioni che già l'immagine cerca di esplicitare per esempio la possibilità di accogliere le chiamate del cliente con un risponditore automatico o multilingua magari che posso personalizzare nel tempo la possibilità anche di poter vedere grazie alla rubrica di sistema sul display del telefono in anticipo prima di rispondere nel nome del cliente e quindi di poterlo accogliere in modo personalizzato oppure di gestire un'autonomia tramite l'interfaccia MyTalk le classiche funzioni hotel quindi come la sveglia, la costificazione delle chiamate direttamente dall'interfaccia MyTalk oppure integrando il sistema telefonico con il gestionale dell'hotel, i cosiddetti PMS sfruttando l'integrazione permessa da HyperTalk tramite il protocollo FIAS appunto con questi PMS, con questi sistemi gestionali di tipo specifici per hotel altra situazione o necessità può essere quella della remotizzazione del servizio di reception sia su un terminale remoto, quindi il mio terminale come quello che ho in ufficio che me lo porto in abitazione al piano superiore o di fronte all'hotel dove vivo e posso riceverle direttamente lì come se fosse in ufficio come vi ricordate prima quando abbiamo visto la soluzione per gestire terminali remoto o sedi interconnesse oppure direttamente sul cellulare, esco per fare delle commissioni e desiderò, preferisco, ricevere le chiamate di prenotazione o le chiamate anche dalle stanze direttamente sul mio numero cellulare anche qui la possibilità di ricevere fax tante volte le prenotazioni per gli hotel arrivano via fax o messaggi vocali di segretaria telefonica che magari anziché preferire di essere chiamato direttamente sul mio numero cellulare preferisco attivare una sorta di servizio note o reperibilità tramite segretaria telefonica e di ricevere il messaggio sulla mail, sul telefonino poi decido io se risponderò o meno o dare il giusto livello di urgenza alle segnalazioni che ricevo anorragamente la possibilità di gestire tramite un videotelefono per esempio della reception tutte le chiamate, le telefoniche, le citofoniche o anche verso le telecamere voglio verificare se nel magazzino distaccato dell'hotel, nel deposito voglio vedere se c'è la presenza di qualcuno o se c'è qualcosa che non va posso chiamare l'interno associato alla telecamera e andarlo a visionare oppure se c'è un impianto tradizionale sfrutto la telecamera di tvcc appunto per ottenere una videochiamata mixando i due flussi audio e video sul telefono della reception oppure anche la possibilità di inviare o ricevere sms mandare sms di promemoria a un ospite per esempio che dovrà arrivare il giorno seguente oppure fare delle promozioni con un invio massivo bulk di sms promozionali a tutta la mia clientela per esempio per scontistico per nuove integrazioni delle soluzioni del mio hotel o quant'altro andiamo a vedere anche qui quindi quelle che sono le funzioni i mattoncini con cui si possono andare a comporre le soluzioni per gli hotel quelle viste in precedenza più o meno integrate più o meno composte e le soluzioni incontrate diciamo con i nostri clienti con il nostro storico con la nostra esperienza fatta in questi anni e sono quelle citate prima commentando l'immagine vista in precedenza soluzioni di questo tipo lo schema impianto si può diciamo riassumere e ridurre a questi elementi dove per esempio c'è il telefono della postazione con SERS con il campo lampade con la possibilità di vedere fino a 30 interni eccetera col telefono video sottolineo possono diventare 60 interni quelli visibili sul campo lampade oppure l'interfaccia MyTalk posso estenderlo a un numero qualsivoglia avendo un campo lampade in tempo reale direttamente disponibile e visualizzabile dall'interfaccia web grafica di MyTalk sul PC poi l'interfaccia per le linee analogiche per effettuare le chiamate il collegamento internet per eventuali track provider o invio di chiamate in remoto tramite il VoIP e poi i gateway analogici per gestire i terminali delle stanze qui diventa interessante a livello di cablaggio poter posizionare uno di questi gateway ognuno di questi gateway ai singoli piani interrompere i cavi che arrivano dalle stanze diciamo dove vado a posizionare il gateway e poi calare diciamo in quello che è il cavedio di colonna il solo cavo di rete quindi togliendosi la preoccupazione di quello che può essere diciamo il vecchio cavo che è stato fatto passare e fatto transitare dal cavello fino ad arrivare alla sala serve che magari può essere danneggiato negli anni o può dare diciamo delle problematiche tutto questo lo posso eliminare controllo solo quello che è il cavo dall'ingresso al cavello di piano alle stanze e poi il resto lo trasformo in un cavo IP che porto al piano terra dove collega lo switch d'impianto qui vediamo anche il discorso del post esterno citofonico citotelefonico in questo caso con un testilino numerico che per esempio nel caso del bed and breakfast può essere utile per andare ad attivare dei codici specifici che do al cliente codici usa e getta che gli permettono di ottenere il primo accesso alla stanza e poi eventualmente di utilizzare le chiavi che trova in stanza e quindi di essere successivamente autonomo anche diciamo senza un codice quindi non c'è più la necessità da parte di chi gestisce il bed and breakfast di attendere il cliente presso la sede presso l'appartamento ma semplicemente gli da tutte le informazioni per loro poi il cliente si arrangia l'ospedale si arrangia e è in grado in autonomia di accedere al servizio di bed and breakfast vediamo prego prego Daniele andiamo a fare un ulteriore sondaggio di approfondimento che è l'ultimo andiamo ad avviarlo e andiamo a chiedervi Ipertoil che permette la gestione di chiamate tramite dei risponditori automatici con scelte multiple abbiamo tre possibilità di risposta sì sì anche come ultilivello oppure no andiamo pure a generare le varie risposte o la risposta alle risposte corrette e poi andremo magari con Daniele ad analizzare direttamente le risposte chiudiamo andiamo a vedere i risultati molti hanno scritto giustamente sì anche con multilivello quindi io posso andare a eseguire una prima scelta e poi un ulteriore livello che mi dà altre scelte chiaramente non è neanche errato il sì e basta perché chiaramente però da dire che il multilivello è proprio la parte interessante di questo sistema che ci permette di andare a realizzare impianti anche complessi e oltretutto ottimizzare il costo delle persone perché essendoci di multilivello a quel punto lì risparmio il costo della segretaria che sta lì a rispondermi alle varie chiamate e a passarmi ai vari da un interno all'altro ma in autonomia la chiamata arriva a destinazione grazie e ripasso a te a te Diego a proposito non più di due settimane fa un cliente è installato un sistema con risponditore automatico che va a interrompere qualsiasi comunicazione verso gli interni aziendali cioè tutte le informazioni tutte le possibilità vengono fornite e raccolte direttamente dal risponditore automatico quindi le potenzialità di queste nuove tecnologie sono assolutamente importanti anche dal punto di vista la gestione delle risorse passiamo quindi alla soluzione ossessiva quella dedicata alla diffusione dei messaggi banalmente il supermercato un pianto di amplificazione con casse tradizionali necessità di diffondere messaggi dal proprio interno quindi il direttore del supermercato o il dipendente del supermercato sgancia il proprio interno compone un codice entra in comunicazione con gli speaker del supermercato e fa un messaggio specifico ad hoc oppure può impostare grazie alla funzione unendo la funzione sveglia e sfruttando il risponditore automatico anche in modalità test to speech di realizzare dei messaggi gli stessi o variabili nel tempo e di ripeterli durante le varie fasi della giornata in determinati orari in determinati intervalli di frequenza verso la chiusura ogni 5 minuti esercizi per chiudere vi prego di completare i vostri acquisti oltre a questo per esempio la possibilità di fare una videochiamata da parte di una centrale operativa in caso di sicurezza di allarmi a un punto di raccolta esterno interno in modalità viva voce può essere un posto esterno IP per esempio video per gestire l'emergenza quindi il messaggio all'interno della struttura che recita di che è presente all'interno di uscire per un motivo di emergenza e poi all'esterno su il punto di raccolta posizionare un posto esterno che l'operatore che controlla l'emergenza che gestisce le varie fasi dell'emergenza con cui questo può interagire con le persone o con un responsabile locale e dare delle istruzioni per gestire questa emergenza ok tutto da una postazione anche remota telefonica o videotelefonica oppure comunicare tramite gli speaker per esempio di un magazzino nella sede remota che ne so diciamo una segnalazione al trasportatore una presenza sul telefono della sede del supermercato il magazzino magari è di fronte su una strada vicina e posso visionare dalle telecamere sia la presenza del veicolo o del solo veicolo sia la presenza nei dintorni del barco e dare la riabilitazione e l'accesso al barco per esempio ok quindi anche qui una serie di singole funzioni che composte assieme tutte o parte di queste riescono a fornire una soluzione diciamo di telefonia che il cliente ci richiede lo schema di impianto relativo anche qui è molto semplice telefoni analogici telefoni IP posti esterni citofonici l'interfacciamento delle linee e tramite un'interfaccia audio dedicata la possibilità di convertire il segnale audio di un amplificatore per emissione di segnali su un interno telefonico quindi chiamo l'interno telefonico entro in comunicazione con l'amplificatore e le casse acustiche vanno a riprodurmi i messaggi manuali automatici vediamo ora le soluzioni per i servizi della clientela sempre di più la necessità per gli esercizi di curare il rapporto con il cliente di essere presente di essere di dare supporto in qualsiasi momento di essere sempre contattabile sempre connesso sempre raggiungibile vediamo qui i vari servizi i mattoncini che possono comporre le soluzioni le soluzioni possono essere lo sfruttare la musica d'attesa e i messaggi di accoglienza per esempio per pubblicare i prodotti o promozioni per farle ascoltare ai propri clienti installare le chiamate dei clienti più importanti verso un interno specifico dedicato per esempio alcuni venditori o alcuni dipendenti di servizi e ordini che desiderano parlare sempre con gli stessi clienti per un servizio più continuativo più presente più completo ecco quindi la possibilità di instradare in base a quel numero che chiama verso determinati interni specifici dedicati oppure sempre come supporto ai clienti il servizio call center con coda per talk interfacciandolo senza toccare il vecchio sistema ma dando un servizio aggiunto un servizio ulteriore dedicato a una nuova necessità appunto di servizio al clientele anche la possibilità di registrare le conversazioni telefoniche hanno servizi clienti la possibilità di registrare di capire se il mio collaboratore ha dato tutte o le sole risposte corrette al cliente e viceversa per esempio se il cliente mi parla di una serie di necessità il fatto di poter registrare la conversazione di poterla andare a riascoltare dopo tramite l'interfaccia my talk direttamente con un semplice click del mouse mi permette poi di andare a riascoltare nel dettaglio la segnalazione e di evitare di dimenticare qualcuno delle osservazioni che mi aveva fatto oppure inviare sms di promemoria e rappresentamento ai clienti o come detto in precedenza campagne promozionali massive verso tutti i miei clienti quindi di essere presenti e di entrare in contatto il più possibile senza sforzi con la mia clientela ecco appunto nello schema di impianto vediamo la situazione citata in precedenza tra i vari casi quindi il mio sistema tradizionale analogico con Agora funziona benissimo da dieci anni non mi da nessun problema ha fatto tutto quel che deve fare non lo voglio toccare non mi voglio preoccupare di mettere mano al mio impianto semplicemente voglio integrare la nuova funzione di tipo call center per la gestione del servizio clienti con coda d'attesa metto un gateway per linee analogiche con linee scusate analogiche con cui mi interfaccio la Gorà trasformo queste linee in IP che vanno gestite nel sistema per talk con coda d'attesa operatori telefoni con cui posso andare a gestire in modo diciamo strutturato e diciamo ottimale il mio servizio di supporto alle clientele con coda d'attesa il tutto con il minimo dei costi sostenibili quindi il minimo di quello di cui necessito di aggiungere al mio impianto tradizionale terminate la rassegna delle soluzioni quindi delle applicazioni vendibili e spendibili del sistema andiamo a vedere adesso quello che può darmi il sistema in fase di installazione esercizi di manutenzione proprio relativo al supporto all'installazione gli strumenti per la successiva manutenzione in tempi successivi my talk il portale come ho detto in presenza dedicato all'utente a ciascun utente per personalizzare le funzioni è anche diciamo anche una sezione dedicata alla gestione del sistema quindi tutta la fase di configurazione di personalizzazione creazione di interni di linee e di servizi viene fatto tramite questa sezione dell'interfaccia non solo in fase di prima installazione si attiva automaticamente la pagina in modalità wizard installazione quindi una guida in dieci passi in dieci punti step by step per la configurazione delle funzioni di base del sistema quindi le linee gli interni le licenze posti esterni l'istradamento entrante risponditore traccio una prima configurazione di base che poi vado a ottimizzare a seconda delle ulteriori richieste del cliente ma la maggior parte della configurazione non è mai completata non mi sono dimenticato nulla e so che dall'inizio alla fine ho fatto quel che era necessario la documentazione del sistema online direttamente sull'interfaccia cliccando il tasto i su questa interfaccia che nel momento capisco lo vedete un po' piccolo però c'è si apre una sezione della interfaccia my talk dove c'è un estratto del manuale del sistema dedicato a quella specifica funzionalità o pagina web che mi descrive i parametri e la modalità di realizzazione della configurazione quindi non rimango mai senza l'informazione necessaria per completare quello step con la configurazione che magari ho fatto solo qualche volta e non ricordo nel dettaglio la consultazione dello storico delle chiamate e le chiamate attive questo in fase di installazione è importante per verificare se effettivamente il flusso di chiamata che mi ha adattato il cliente sono riuscito a rispettarlo e l'ho implementato in modo completo il report di allarmistica utile per rilevare in modo immediato mal funzionamenti di sistema e errori di configurazione cliccando su questo tasto viene esplosa una lista di eventuali allarmi che il sistema ha manifestato per esempio durante la fase di installazione o anche in tempi successivi in caso di utilizzo backup e restore della configurazione di sistema è molto importante al termine la configurazione fare una copia della configurazione il protocolo permette con due semplici click dell'interfaccia web in modo che nel caso in cui poi il cliente esegge le modifiche le personalizzazioni errate che vanno a danneggiare il normale funzionamento del sistema per l'installatore diventa semplice e immediato collegarsi e andare a ripristinare quella che era la configurazione della rifatta e corretta e funzionante l'aggiornamento firmware necessario per correzione di bug aggiornamento delle funzionalità o integrazione di nuove funzioni le funzioni come detto in precedenza sono in continua evoluzione per soddisfare via via nuove esigenze dei clienti ecco che nuove funzionalità o integrazione delle precedenti vengono via via integrate col passare del tempo e quindi è buona norma andare ad aggiornare il sistema e questo è molto semplice quando vi collegate al sistema a lato della versione del sistema vi compare in lampeggiante sempre in colore verde disponibile un nuovo firme basta cliccare il sistema in autonomia se lo scarica dal cloud di Urmet e si va ad aggiornare durante questa descrizione dell'interfaccia dei passi per la manutenzione gli esercizi e la manutenzione vi ho detto vi potete collegare con dei clic che è molto semplice fare sì per carità però come lo raggiungo il sistema senza recarmi dal cliente quindi senza sprecare del tempo di viaggio quando magari l'operatività è molto semplice e immediata vi chiede solo pochi minuti per raggiungere da remoto i sistemi per talk Urmet ci ha pensato e ha messo a disposizione sul proprio cloud un portale che garantisce e facilita garantisce la sicurezza di accesso e facilita la proiettività di manutenzione di installazione sia all'installatore ma anche al cliente finale un cliente finale che si vuole corregare da remoto e non ha una VPN aziendale però non è in grado di realizzarlo perché fino a prima non gli serviva può sfruttare il portale HyperTalk sul cloud e raggiungere il proprio sistema da remoto non sarà quindi più necessario ricarsi fisicamente del cliente per fare delle modifiche sulla logica sull'impostazione del sistema o per verificare una segnalazione di anomalia ma sarà sufficiente collegarsi ai sistemi per talk previa registrazione si va a definire il sistema tramite l'UID e poi si clicca questo link e si ottiene immediatamente l'apertura dell'interfaccia principale di configurazione del sistema oltre a questo nel caso in cui manchino con informazioni o ci sia la prima esperienza di installazione o ci si senta confidenti su questa materia Urmet mette a disposizione diverse forme di supporto sia quello diciamo iniziale commerciale con i tecnici commerciali i preventivisti quindi per conoscere il prodotto per sapere di eventuali funzioni non note o una preventivazione di quello che può essere necessario per realizzare il sistema c'è il personale dedicato a Urmet oppure anche il supporto in fase di installazione o di verifica del cablaggio prima di andare sull'installazione per avere informazioni su cablaggio o su come correlare delle funzioni o dei servizi c'è il supporto telefonico diretto dell'assistenza tecnica oppure per soluzioni di impianti magari più complessi o appunto se non vi sentite ancora confidenti perché sono le prime installazioni si può richiedere al tecnico commerciale di avere il supporto in loco di un centro di assistenza tecnica direttamente presente con voi sull'impianto e quindi a parte la fase di installazione poi tutta la parte di configurazione settaggio ottimizzazione dell'impianto la farete accompagnati da un tecnico assolutamente preparato su tutte le funzioni del sistema ipertolico ipertolico ovviamente anche tutti gli altri sistemi ultimo ma assolutamente non meno importante è la formazione tecnica che verrà continuamente aggiornata fatta e integrata infatti Urmet offre webinar come questo con lo sitivo anche più tecnici sicuramente corsi in aula o tutorial on demand sul canale youtube di Urmet dove è possibile visionarli scaricarli comunque rivederli anche magari in fase per avere delle dritte anche in fase di installazione o comunque in anticipo il giorno prima di andare a fare l'installazione avere un'idea di alcuni particolari che il giorno dopo dovranno andare a implementare nello specifico impianto per rispondere a specifica esigenza del cliente bene la presentazione diciamo delle macro l'abbiamo completata e terminata almeno a questo primo step e c'è quindi adesso uno spazio per eventuali domande di chiarimento sì Daniele grazie abbiamo avuto qualche domanda direttamente sulla chat non ho risposta a due perché volevo direttamente proporle a te una è questa o un impianto esistente con Agorà che gestisce anche la citofonia tradizionale posso affiancare o sostituire tutto con impianto ipertolk o scusate l'abbiamo avevo detto sì certamente si può fare la cosa anzi l'abbiamo anche lo avevo anche citato in precedenza quando ci parlava di soluzioni per i servizi del clientela quindi voglio integrare un servizio ho il mio impianto tradizionale con un'interfaccia analogica se mi interfaccio agli interni di Agorà per esempio posso direttamente aggiungere in parallelo l'hypertolk per andare a gestire i miei servizi evoluti i miei servizi l'ho raggiunto poi in un secondo motivo posso far transitare per passi parti del sistema e passare magari successivamente tutto sotto il sistema di ipertolk magari poi il mio sistema Agorà diventa datato solito o non più funzionante perché le cose non durano per sempre per quanto di qualità possano essere e quindi sono già pronto ad un'evoluzione poi completa del sistema e quindi è una sostituzione grazie Daniele un'altra domanda oggi il telelavoro è diventato un'esigenza molto comune chiaramente causa covid con ipertol posso remotizzare la postazione di lavoro quindi il telefono ip presso l'abitazione del dipendente assolutamente sì anche prima abbiamo visto nella fase iniziale nelle prime soluzioni a di realtà un po' in tutte le soluzioni sono diciamo previste a questo discorso di ormai molto sentito di necessità di remotizzazione di terminale remoto di telelavoro e lo vediamo per esempio in questa slide dedicata proprio alle soluzioni per il telelavoro come posso avere il dipendente a casa con l'interno tale quale lo stesso o anche proprio il telefono che prendo dalla postazione in ufficio e me lo porto a casa basta semplicemente definirlo attivare sul telefono ovviamente previa configurazione da parte del supporto del mio installatore ma poi una volta che ho la configurazione della diciamo per collegarmi alla VPN del sistema della sede principale io posso semplicemente portare il mio telefono a casa collegarlo al mio router attivare la VPN che ovviamente in ufficio non utilizzavo e il mio terminale funzionerà in modo identico a come funzionava nella mia postazione diciamo che avevo prima in ufficio quindi la rubrica quindi la possibilità di chiamare l'interno in costo zero eccetera eccetera di rispondere alle linee del sistema quindi in assoluta autonomia il dipendente è in grado di diciamo spostarsi da ufficio a casa con estrema facilità grazie Daniele aggiungo un'ultima domanda che è appena arrivata buonasera ipertolk si compra come una centrale normale ma poi ci sono degli abbonamenti o cose simili credo si rifaccia al discorso delle licenze se puoi spiegarci certo allora sì come citato anche prima il sistema ipertolk prevede un equipaggiamento base ok a cui poi possono essere aggiunte tramite che il sistema che può essere ampliato poi tramite delle licenze aggiuntive queste licenze aggiuntive sono tutte one shot cioè le compro e non le devo più rinnovare nel tempo sono definitive ok e tutte le licenze possono essere devono essere acquistate da un portale su web sempre un portale urmet di acquisto dei prodotti urmet su web tramite carta di credito quindi le acquisto dal portale le associo al mio sistema la scarico sul mio pc e la vado a installare sul mio sistema ipertolk tutto dal mio browser tutto anche direttamente il giorno dell'installazione magari anche facendola pagare la licenza direttamente con la carta di credito del cliente ok non mi interessa usare la mia carta di credito posso usare quella del cliente finale vado sul luogo di installazione mi preparo mi installo il cablo tutti i componenti abbiamo i clienti e dico bene quanti interni volevi in più 10 bene compriamo la licenza per 10 interno vuole la funzionalità fax2mate prendi la funzionalità fax2mate metti la carta di credito paga io la associo al sistema genero la licenza la carico sul sistema e il gioco è fatto quindi in modo estremamente semplice e immediato anche direttamente in fase di installazione grazie Daniele chiaramente le licenze sono one shot quindi io la compro una volta sola e è sfruttabile finché il centralino vive ovviamente voglio aumentare il numero di licenze però perché ho più interni o più linee o più cose da fare chiaramente successivamente potrò comprare delle altre licenze bene vi abbiamo fatto vedere diverse cose tra cui volevo un po' ottimizzare il discorso che perché proporre ipertolche al cliente finale come Daniele prima ci ha spiegato bene può essere una soluzione per far risparmiare il vostro cliente finale laddove magari ha una piccola azienda e comunica con dei clienti internazionali dove il costo è a chiamata sicuramente elevato credo che nell'arco di un anno utilizzando il centralino ipertolche e utilizzando le reti del del trunk voip sicuramente riusciamo a far risparmiare ho visto più di qualche fattura dei clienti in cui non avevano magari un centralino digitale come ipertolche e nell'arco di un anno si sono riusciti a ripagare l'impianto e anche l'installazione altro caso dell'hotel rispetto ai sistemi analogici chiaramente c'è un'ottimizzazione del tiraggio cavi in quanto con i gateway riusciamo a portare i vari terminali direttamente al piano e poi uscire e andare al tablaggio strutturato senza problemi e quindi andare a risparmiare effettivamente molti soldini altro caso dell'ipertolche chiaramente è l'ottimizzazione con il discorso del multilivello dell'IVR del servizio di risponditore automatico perché ci permette di instradare la chiamata e quindi non avere la segretaria e anche in quel caso si va a far risparmiare il cliente finale diciamo che vi abbiamo dato oggi in un'ora un po' di informazioni in tal senso ovvio che se avete bisogno di ulteriori informazioni abbiamo tutta la rete commerciale a vostra disposizione dislocate in tutta Italia tra l'altro approfitto per salutare tutta la rete commerciale se non aveste un numero di un nostro venditore potete andare sul sito della Urmed dove potete trovare in ogni singola area geografica tutta la parte dedicata ai vari venditori ringrazio anche la parte di prevendita e post vendita che ogni giorno ci affiancano per queste nuove battaglie ed avventure ringrazio il marketing nello specifico da Deleasi che oggi ci ha tenuto molto compagnia risponderemo ho visto che siete stati molto attenti perché adesso prima c'era qualche domanda adesso c'è tutta una domanda risponderemo senza ombra di dubbio anche quelle se andiamo alla slide fidale vi salutiamo con un arrivederci in quanto prossimamente organizzeremo un ulteriore webinar quindi vi terremo ancora compagnia dedicato al controllo accessi della Plexa il webinar sarà il 14 del 10 alle ore 17.30 vi ringraziamo da parte mia e chiaramente da parte della URB che ci avete dedicato grazie buonasera e arrivederci quindi al prossimo webinar del 14 ottobre alle 15.30 grazie buonasera arrivederci saluto Grazie.